Sono molto felice perché non è solo ottimismo ma sono risultati. Noi con il video che abbiamo proiettato oggi abbiamo dimostrato dei risultati tangibili, ovvero 101 milioni di tonnellate mossi attraverso l'intermodalità, un paese che muove 500 milioni di tonnellate in termini traffici ed è il primo paese in Europa a livello di movimentazioni. E cosa ancora più importante, abbiamo raggiunto dei target molto ambiziosi perché già abbiamo raggiunto quello che il piano nazionale ci richiedeva, ovvero di raggiungere entro il 2020 le 80 milioni di tonnellate e noi siamo a oltre 100. Quindi un risultato molto importante che si aggiunge da un punto di vista sociale a quello che è un risultato a cui io tengo ancora di più, ovvero la creazione di 1.500 posti di lavoro per i giovani. grazie ad accordi fatti con la nostra associazione o dalla nostra associazione con ITS, istituti tecnici superiori, che a breve verranno diminate delle vere e proprie accademie, ma così come università.